Tutti gli occhi su Pirlo, poverino. Ha cercato disperatamente il bomber, non l'ha ancora trovato e per fortuna c'è Ronaldo che mette a posto le cose. Ma Ronaldo non parla mica italiano. L'altro, subito, Suarez, è entrato in campo verso la fine della partita dell'Atletico e ha fatto due gol. E non parla l'italiano neanche lui. Però l'hanno cacciato via. Chissà se fra qualche anno si potrà dire che la Juve ha rinunciato a un grande bomber perché non sapeva parlare in italiano. Il calcio può fare anche questi scherzi. Comunque battute a parte, è un campionato che è cominciato bene. Inter, Milan, Napoli. Arriva anche la Juve. Le grandi ci sono tutte. Buon divertimento.